Scrittori, artisti, ambientalisti, giornalisti ma soprattutto sognatori ancora una volta si sono ritrovati tutti insieme nell'incanto del borgo dell'Acqua Bella di Ortona in occasione della quarta edizione del Festival delle Arti, dei Linguaggi e delle Letterature dell'Adriatico con l'obiettivo di diffondere la cultura del mare e proteggerla dalle incursioni di pirati contemporanei, famelici predatori delle testimonianze del passato. Ricordiamo che il secentesco borgo di pescatori dell'Acqua Bella è stato oggetto negli ultimi anni di speculazione edilizia in vano ostacolata da associazioni e società civile. L'appuntamento si è aperto nel ricordo di Fabrizio Arduini, storica figura dell'ambientalismo abruzzese scomparsa l'anno scorso per poi ospitare gli scrittori Stefano Medas e Fabio Fiori che hanno illustrato rotte antiche, isole, patrimonio sommersi e peculiarità dell'Adriatico. La professoressa Lea Gian Cristofaro si è soffermata sulla necessità di preservare lo straordinario patrimonio immateriale che caratterizza la cultura marinaresca delle nostre coste. Premio Colle Moro 2021 al sindaco di San Vito Chietino, Emiliano Bozzelli, per il suo impegno nella tutela di un territorio costantemente sott'attacco che molti vorrebbero sommergere solo da colate di cemento. Lo scrittore Fabio Fiori. Questo borgo è veramente un piccolo gioiello che racconta la storia del mare, racconta la storia di chi sul mare faceva fortuna o quantomeno riusciva a sopravvivere grazie alla pesca, grazie a una piccola agricoltura. Ma il borgo di Acquabella è anche testimone di una storia ferroviaria adriatica veramente fuori dal comune. Una ferrovia che per decenni, per più di un secolo, ha sfiorato l'Adriatico e che oggi può regalare emozioni nuove andando a piedi o in bici.